Notte bianca dello sport a Torremaggiore, giovedì 30 agosto alle 20.30 in Piazza Palma e Piacquadio, un evento organizzato dall'assessorato allo sport del comune di Torremaggiore e che rientra nel Torrestate, il cartellone di eventi che hanno caratterizzato l'estate torremaggiorese riscuotendo successo. Torremaggiore valorizza lo spirito sportivo come patrimonio della città, commenta il sindaco Pasquale Monteleone. L'iniziativa rappresenta l'applicazione di uno dei compiti istituzionali che l'amministrazione si impegna a promuovere, la diffusione e la valorizzazione della pratica sportiva non solo in termini agonistici, ma anche come fatto relazionale attraverso eventi che promuovano lo sport, inteso come veicolo di integrazione sociale e culturale, ma anche come divertimento, passione e prevenzione fisica della persona, conclude il primo cittadino. Diverse le attività previste, tutte da non perdere, non solo per gli appassionati di sport, ma anche per famiglie, ragazzi e bambini di tutta l'età, aggiunge l'assessore allo sport Gianluca Dianni. Torremaggiore offrirà alla cittadinanza molteplici servizi, dalle varie pratiche sportive a quelle di intrattenimento come running, tennis, basket, volley, arti marziali, ciclismo, calcio, calcio a 5, solo per citare alcune delle attività che si svolgeranno. Senza dimenticare le varie forme di intrattenimento, chiosa l'assessore.